Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Io bene a voi, è già una settimana che sono tornata a Napoli. L'esperienza è bella, da ripare per il prossimo anno. Mi è piaciuto tantissimo conoscere tutti gli impressionatori e anche tutte le altre persone, specialmente alcune persone di potenza che le mando anche un bacio. Monowalker, vi adoro. Spero di fare qualche altra cosa, di fare qualche altro evento su Facebook. Ah, a proposito, ho fatto un evento su Facebook dove è già una settimana che Michael Jackson ha fatto 61 anni. Se leggete il testo sotto, spero che alcuni di voi fan di Michael vogliono partecipare. Se è tutto scritto, quindi potete anche contattarmi privatamente su Whatsapp e anche su Facebook. Vi mando un bacio, ci vediamo a presto!